Torna su TV Prato, io e te, storie da un matrimonio. È la produzione di TV Prato dedicata all'amore, alla giornata più bella, al matrimonio, taglio della torta, abito, invitati, luci, tutto quanto sarà raccontato ogni settimana grazie alla coppia di sposi che ci porterà dentro il loro giorno più bello. E saremo nel location anche più bella della Toscana, villa e paesaggi incantati. E allora seguiteci ogni settimana, ogni martedì sera, a partire dal 5 marzo alle 21.50 su TV Prato. Vi aspettiamo! Ciao!